Buongiorno a tutti, il video di oggi è incentrato sulla recensione di due tomi di un'opera storiografica che probabilmente segnerà che diventerà una pietra miliare, come sono diventate negli anni, anzi nei decenni, pietre miliari altre opere dei due autori. Gli autori sono Stefano Ales e Andrea Viotti, quasi a livello di mezzo secolo, grandi studiosi e anche divulgatori dell'uniformologia, ma non solo, sarebbe riduttivo perché le loro opere che hanno spaziato dal Settecento fino alla Guerra Fredda, che hanno poi spaziato a livello dall'esercito su cui si sono principalmente concentrati, quindi l'esercito inteso in senso lato, appunto, da le truppe piemontesi fino ad arrivare all'esercito italiano della Repubblica, ma parlando anche di guardie di finanza, viotti sul quadro di aeronautica, quindi tutta una serie di opere che hanno in qualche modo costituito un'ossatura di sviluppo, di analisi del vestiario, dell'equipaggiamento del militare italiano, ma andando a sviscerare, a approfondire tutto ciò che riguarda l'ordinamento. E questo è un elemento molto importante perché sono sicuramente opere che vengono destinate prevalentemente ai collezionisti, a coloro che hanno piacere, e su questo si potrebbe anche discutere, sul fatto che molti collezionisti hanno, come si suol dire, interesse a leggere le figure e guardare il testo, che è un elemento che poi, diciamo, limita molto il valore, limita molto l'approccio di queste opere. Ebbene, questi volumi che partono e hanno la loro grande soddisfazione, anche nelle vendite, sono tra l'altro appunto le opere principalmente apprezzate, vendute per quanto riguarda i vari uffici storici, prevalentemente quello dello Stato Maggiore dell'Esercito, ma in realtà sono delle opere che abbracciano a 360 gradi la consistenza delle somministrazioni, degli equipaggiamenti, di tutto l'equipaggiamento, in senso appunto ampio, del termine delle Forze Armate. Perché? Perché inevitabilmente, per comprendere la logistica, il modo in cui un esercito, che poi vedremo in che modo poi si è andato evolvendo, è inevitabile partire dalla sua organizzazione, della sua organica, della sua struttura. Ecco come infatti i tanti volumi scritti dai due autori, sia in sinergia, sia in maniera individuale, che partono inevitabilmente dall'analisi, dalla descrizione, in maniera molto molto dettagliata, di ciò che l'esercito o la Forza Armata in generale costituisce alla sua fondazione, alla sua organicità. È impensabile parlare di copricapi, o di giubbe, o di equipaggiamenti, della fanteria, o dell'artiglieria, o di qualsiasi altro corpo o arma. Se non si capisce effettivamente come quella singola arma o corpo ha avuto la sua consistenza, è distribuita anche sul territorio, come si relaziona con gli enti, con le amministrazioni superiore o appunto di pari grado, perché appunto ha tutta la necessità di dover in qualche modo approcciarsi per la propria somministrazione e per tutto ciò che ne consegue. Infatti sono quindi volumi che non hanno la loro esclusività nella descrizione di meri capi di abbigliamento o meri attrezzature, ma vanno un po' a scandagliare tutta la logica, tutta la comprensione di cosa significa organizzare, armare, vestire, gestire una forza armata. E questi due tomi, che sono veramente dei macigni, ma macigni proprio perché diventano delle pietre miliari, che si riferiscono al primo esercio italiano 1861 e 70, abbiamo due tomi, il primo è l'ordinamento di oltre 300 pagine, invece il secondo tomo, molto più corposo, di 700 e rotte pagine, no sì sì, di 600, quasi 700 pagine, quasi il doppio, tomo secondo, le uniformi, l'equipaggiamento e l'armamento. Da cosa bisogna partire? Bisogna partire intanto dagli estremi cronologici, siamo a 1861-1870. 1870 inevitabilmente ci porta a ricordare come quest'anno è stato il 150esimo anniversario della presa di Porta Pia, il 150esimo anniversario di quella conclusione, possiamo dire, almeno nella parte sua corposa, nella parte sua centrale, del risorgimento. Poi il Triveneto sarebbe, tra più che altro, la Venezia Giulia e la Venezia Trentina avremmo avuto in seguito altre occasioni per affrontarle, ma il risorgimento nella sua pienezza si chiude col 70. E proprio il primo decennio dell'Unità d'Italia, 1861-1870, rappresenta a livello organizzativo, a livello ordinamentale, il primo banco di prova dello Stato Unitario. Perché? Perché si passa inevitabilmente da quello che era l'armata sarda, con una sua consistenza, possiamo dire, macro-regionale, a una forza armata, a uno Stato che abbraccia tantissime realtà socio-economiche, tantissime realtà di modi di fare, di modi di gestire anche la cosa militare. E ovviamente non si può che partire dall'aspetto finanziario, le guerre costavano, aumentare un esercito come quello che potrebbe essere il nuovo esercito italiano costava, non fosse altro perché andava anche snellito di tutte quelle potenziali affluenze, primo tra tutti l'esercito meridionale, ma non solo, quindi in qualche modo andava gestito anche in quel senso per cercare di trovare una sintesi tra le varie anime preunitarie. E proprio questo periodo, oltre all'aspetto, appunto, come dicevo, organizzativo, sarà evidente soprattutto nei primi limiti, nella terza quella indipendenza, quindi abbiamo questo zoccolo duro, questa parte centrale del 1866, che un po' va ad essere lo spartiacque tra il 61 e il 70, che rappresenta un po' anche lo snodo per riuscire a riflettere sugli inciampi, su quelle inevitabili modificazioni che anche l'organizzazione stessa dell'esercito deve avere. E questo è inevitabile, appunto, sotto l'aspetto finanziario, i governi passano con la necessità, poi sapremo che dal 70 in poco, le varie riforme, ricotti, eccetera, vi sarà un serio riesame per anche un'autocritica nella gestione dell'organizzazione e i risparmi tanto influenzeranno l'organica della Forza Armata, ma in particolar modo dell'equipaggiamento e degli uniformi. Ma parliamo dei due tomi, i due tomi che dicevo, il primo è sull'ordinamento e affronta in maniera molto, molto dettagliata tutta l'organizzazione, l'organizzazione dell'amministrazione della guerra, dei corpi, delle armi, in maniera molto dettagliata si entra proprio anche nell'analisi degli istituti di formazione, delle componenti, di tutte le armi e i corpi, cioè veramente una cosa molto interessante per comprendere anche l'aspetto proprio organizzativo, è alla fine molto, molto valida, in particolare, ma tutto il tomo è valido, per esempio l'ordine di battaglia del 1866, quindi in qualche modo abbiamo appunto specchio di composizione dell'esercito italiano al 24 giugno 1866, con appunto una disamina di tutti i reparti che all'epoca facevano parte dell'esercito. Ma solo per dire, ma veramente il decennio è abbracciato in maniera molto, molto dettagliata, alzando gli arsenali, alzando veramente tutte le più minute organizzazioni che in qualche modo poi andavano di specchio a riflettere la necessità dell'equipaggiamento e delle uniformi. E appunto come complemento abbiamo, complemento più che inconsistente, la seconda parte, ossia quella legata proprio all'aspetto uniforme, equipaggiamento ed armamento, che va a declinare attraverso anche un apparato di fotografie, ma non solo i disegni di Viotti che sono particolarmente apprezzabili sotto, oltre a testi, immagini, testi d'epoca di normative particolari, ma in questo senso si ha anche la possibilità di evidenziare un'accuratezza che è un po' anche lo specchio del desiderio del primo decennio dello Stato unitario di approcciarsi all'idea nazionale. Quindi anche il tentativo di in qualche modo una sorta di passaggio. Poi appunto come dicevo vi sarà un esame di coscienza dal 70 in poi con un anche inevitabile snellimento per cercare in qualche modo di risanare il bilancio pubblico. Ma questi due domi ci danno veramente la consistenza di come tutto in quel momento in quel decennio vi è invece la necessità di in qualche modo di allargarsi, di andare a trovare tutti gli inevitabili sviluppi della forza armata. E quindi questo viene veramente resa molto molto efficace appunto nell'esame di tutti i vari armamenti, di equipaggiamenti, tutte quante alle buffetterie che in qualche modo andavano anche a rendere merito a tutte quelle armi, corpi che stavano e stavano appunto facendo il risorgimento. Quindi è un'opera essenziale che secondo me diventa veramente un'opera inevitabile da poter avere non soltanto per il collezionista, non soltanto per l'amante dell'aspetto estetico, delle uniformi, ma soprattutto anche per comprendere effettivamente come un esercito si andava a sviluppare, come era inevitabile l'analisi e il rapporto tra organizzazione, tra gestione, somministrazione, gestione delle risorse per tutta quella che appunto sarebbe diventato un tentativo di armonizzare le varie realtà militari pregresse. Come al solito vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale, alla prossima, grazie, ciao!